Ciao a tutti ragazzi, sono Dan e benvenuti nella 161esima puntata di Eurotrack Simulator 2 Abbiamo appena finito i lavori stradali, avevo già iniziato a registrare ma poi c'era un po' di casino con i lavori stradali Qui siamo su questa stradina qui E dai ancora questa nata Siamo su questa stradina qui per chi volesse saperlo Appena fuori da Francoforte Ecco vedete praticamente sono entrato qui Qui c'era tutto il peso di lavori Che ve l'ho scansato Cambiava di corsia E ora siamo di nuovo qui sulla nostra autoban Autoban Allora questo qui cosa si è? Se mi rimorgo il load ecco E' bello che il camion non lo è Che bello vedere ste cose Che schiaccio Automobile Ah ecco il camion va piano perchè ha la macchina che va piano davanti Non peraltro Che comunque La maggior parte degli incidenti Che fanno i camion E' causata dalle macchine Non so se... Eh allora ti vuoi levare da lì o no? Cioè io non ci vedo sulla destra In tutti ci metti anche te Non so se ve l'avevo mai detta sta cosa ma... La maggior parte degli incidenti No aspetta Degli incidenti che fanno i camion E' causata dalle macchine Che magari tagliano la strada Frenano all'improvviso E per evitarle Perdono il controllo dei mezzo Che fanno un incidente loro E' come dice un video Che gira ultimamente su facebook Per salvare la tua vita Non posso rischiare la mia Che poi Adesso Tutti che ce l'hanno con i camionisti A parte che Ho già espresso la mia Opinione a riguardo Perché Sembra che Andiamo in giro per divertirci È un lavoro Amica A me piace Perché comunque è la mia passione Però E' sempre un lavoro Se togliessero dal mondo I camion per Una settimana Neanche Facciamo una settimana Esageriamo Se per una settimana Non circolassero i camion La vita sulla terra Finirebbe Già Sapete Per una settimana Se non girassero più i camion Cosa succederebbe? Il devasto più totale Non ci sarebbero più Di vivere i supermercati Ci sarebbero i bancali vuoti Gli scaffali vuoti Non ci sarebbe più Il latte fresco Non ci sarebbe Cioè Proprio Tutto Avevo visto una foto Che ho scritto In dieci giorni Come diventerà La tua vita E in dieci giorni Non c'è più niente da fare Neanche il lavoro No Seriamente Se ci pensate Tutto Tutto È portato dal camion È il mezzo di trasporto Per eccellenza Perché adesso Tutti dicono Ah no Ma i treni I treni consumano Meno Sono più ecologici Sì sì Facciano arrivare Un treno Vabbè A parte quello Dunque Ci sono quelle zone industriali Che sono grandi Chilometri quadrati Chilometri quadrati Che Faccio una rete di ferroviari Cioè Proprio Non esiste E poi Come si vedono Un'altra foto Che gira su facebook Che c'è Il camion Che la macchina Della polizia C'è Che tu Preda Predattore Cioè Veramente La polizia Secondo me Si diverte A fermare i camion Appena Appena ti vedono To Fermati Che sei un criminale A prescita Quindi il camion Sei un criminale Vabbè Cosa dobbiamo farci Qui Autostrada Del sole No Autostrada E E E45 In parte di Condare E E No Sembrava di aver letto M1 Ma M1 Non può essere Omega F E F E Omega Metà alfabeto italiano Vai Metà alfabeto Si italiano In italiano Metà in Latino Omega Ok Non lo so L'alfabeto nato Quello che usiamo Che si usa quando facciamo le comunicazioni Tipo tra la centrale Insomma Con la Selettiva In croce rossa Che tipo Non dici Per esempio Sei da dire Il paziente Si chiama Luca Non dici mica Luca A parte Vabbè Sto facendo un esempio Del cavolo Dici Vabbè A seconda Del Del nome Poi c'è Alpha Bravo Charlie Delta Echo Foxtrot Wolf FG HI Poi ci sono tutti H Hotel ABCD FG H I India C'è un sacco Il nostro qui A di averli tutti HI Poi F Non so manco più l'alfabeto Perchè poi Quando pensi troppo a una cosa Te la dimentichi Infatti Dicono Se pensi a una cosa Che Comunque poi Ti dimentichi Però vuoi fargliela tornare in mente Non devi pensarci Non so perchè E sinceramente Non so perchè Anche quando dicono Che Tipo Ti scappa da starnutire Ma Ti scappa Ma non ti scappa Cioè Ti scappa ma non starnutisci Devi guardare la luce Sono quelle Quei grandi misteri Del cioccolato italiano No A parte Sto stupitate Che ne sto dicendo Un po' troppe Oggi Dai quanto ci manca Che io sono un po' Stufo anche Di guidare Con questo Cosone qua dietro Questa paleolica Dobbiamo andare di qua Sì 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 O forse mi conviene rallentare Rallentiamo Un 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 Mucco Ok Che negli svincoli Non si sa mai Se abbiamo una macchina Ferma Da dare una precedenza Infiliamo giù tutto E ciao Praticamente Cioè Camera rinnovata all'ora Non fermi Non ha Non ha frenata Che ha la macchina Che fa da 100 a 0 In 2 sec Con i farini in carboceramica Qui è già tanto Se da 100 a 0 Ce la fai In 20 sec Ma 20 sec No 10 secondi Più o meno 100 Sì dai 10 secondi dovresti farci Vabbè dipende sempre dal carico Cosa sono sti laggati In prossimità della città Allora Auschwalt Mi dovrei girare tutta la mappa Tipo Con la modalità aeroplanino In modo che me la carica tutta E E almeno poi D'ora in poi Quando entro nella città Non mi fa più questi lag Sparks Perché è abbastanza fastidioso Vedete Questi qui sono Lag spikes Non so Non è lag Il lag è costante Questo Sono Che sinceramente Poi vedete Che il frame rate è alto Tipo 60 fps Però Lui Cala proprio Qui A dietro a sto cartello A momenti non vedevo la rotonda Per fortuna che ho guardato Dal navigatore Dobbiamo entrare qui Sopra la marcia a piede Oh Non dirmi che è un casino Da parcheggiare Perché Ci smatto eh Cioè già qui Tagliamo Le gomme Cerchiamo di prenderla Un pochino più così Guarda 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 No Cioè Un millimetro Ci abbiamo fatto Danni non ce n'è Vero Poi Magari Di punto in bianco Mi salta fuori Che ho fatto dei danni Guarda Guarda C'è una jcb 460 No Scusate Questa è una Lieber Lieber che ci sarà Anche Scusarmi Simulator Di 17 Perché ho schiacciato Sto tastino Ok Oh va bene Non so come faccia Ad andargli bene A un parcheggio Del genere Ma noi lo prendiamo Come è vero E non ci lamentiamo Siamo operai specializzati Ragazzi Ragazzi Ragazze Siamo ragazzi specializzati Sì ragazzi operatori specializzati Già questo qui non mi piace 21 Quanta strada 7,5 Cioè lo stesso identico No questo è 7,50 Questo è 7,5 Questo è 6,50 Questo mi piace Leggerino Questo Orleans Ma questo devo far meno strada Mi pago solo 300 euro Di draghetto Poi sinceramente io Mi farei anche un'altra strada Adesso vi faccio vedere quale Andiamo C'è questo Marsk Il Sea Land Non è vero Guarda Mi fa male Una gamba Non ho voglia di premere la frizione Sì ora qui Ci mettiamo l'anima in pace Facciamo passare tutti Tutti per il corno Dai però Sì vabbè Questa qui qualcuno me la deve spiegare Il camion slitta così Almeno andate avanti E però Non vuole salire Ma perché Eurotrack mi deve far girare Così Le scatole a volte Ora arranco via tutto Sto a vedere È lì che continua a fare così Ora lo spingo Sono stufato Andiamo Qui mi fate passare tutti Eh mi raccomando Allora vi dobbiamo andare a caricare Bah wow Quella cosa lì Aia sinceramente mi fa ma Il 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 Come si chiama Non mi Aia Il Come si chiama Quell'osso Aia Ecco Sinceramente Non riesco più a schiacciare l'acceleratore Ragazzi E che l'acceleratore sul G27 è morto Il No nel femore Il vaccino Non riesco più a schiacciare l'acceleratore Non mi veniva la parola Andiamo 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 Qui c'è l'autobahn Cioè che ti banni da solo se vai qui Oh FIAC Ecco Aia No aspettate il freno Ah beh quando schiaccio il freno Quindi sempre con il piede destro Allora ho fatto Autolomo Vediamo se possiamo cambiare il frigo Comunque Sì magari È un pochino più comoda No non possiamo Un pochino più comoda sta cosa Ma non è molto realistica Però vabbè Uh bello Io mi sarei preso questo You shop We drop Anche questo è bellino CMA CGM Voglio vedere questo Lo cambio intanto Almeno Me lo fa Aia Se ogni tanto mi sentite dire Aia ragazzi Perché mi fa davvero male Quando Sposto il piede Dovrei sgranchirmi un attimo Ok scusate se Ho girato la testa Ah ecco poi un'altra cosa Che mi avete chiesto Per esempio Quando guardo fuori dal finestrino Com'è la mia testa Cioè come faccio a vedere anche il monitor Semplicemente Io quando guardo fuori dal finestrino Tipo adesso Così Ho la testa inclinata Cioè girata A sinistra A sinistra di 45 gradi 45 gradi Quindi con gli occhi Riesco ancora a vedere il monitor Cioè Anche così E così proprio Sono dritto Anche se facessi così Così non mi sto guardando dietro io Sto guardando 45 gradi Verso destra Praticamente Vediamo l'altro CMA CGL Guarda che bel frighetto Ci abbiamo Oh siamo riusciti a partire Senza l'acceleratore In realtà Ce la fai benissimo Andare senza l'acceleratore Con il camion Infatti io mi ricordo La prima volta che guidai Un camion Che era questo Cioè questo Era il 164 Che Mi ricordo che io non acceleravo Il camion andava da solo Però comunque Hanno un motore grande Non serve che acceleri Allora Io andrei nella rotonda a girarmi Perché qui so già che Nessuno mi farà mai passare Sì Guarda Guarda quanta gente Che c'è Ora intasiamo anche la rotonda Giustamente Ma guarda questo Guarda questo Momenti mi tiro dietro questo Per far passare questo stupido di qua Perché anche questo ha fatto una cosa illegale Perché è vietato E se è veramente vietato Fare il suo passo in rotonda E dai Però ti accendi o non ti accendi Non ho mai visto un camion Che non parte di prima Anche se molli la frizione Tutto di un colpo In prima parte un camion Ok Facciamo così Non si può Inventarsi dalla seconda corsia A uscire Dai Ma chi è che ha inventato Il traffico Sulle rotonde Ora Io A parere che questa scuola Questa cosa Scuola guida Non me l'hanno insegnata Però Comunque Lo dissi anche In un qualche troppo Poco Ciao Buonanotte Non troppo tempo fa Parlando del trackier Mi avete chiesto Se c'è la convenienza Comprarlo o no Secondo me Sì Per Eurotrack American track Adesso anche per farmi Simulator Lo proverò E poi vi dirò Ma secondo me Per questi giochi di guida Tipo anche city car driving Assetto corsa Assetto corsa E Anche una movimentazione in più Secondo me È tanto Ti aiuta tanto Cioè guardate Io faccio così Mi guardo di qui Mi guardo di là È molto più simulativo E ti aiuta anche tantissimo Nelle manovre Cioè un conto È muoverti così Che c'è un tasto Che ti guarda di là Che c'è un tasto Che ti guarda di qua Un conto è poterti Giostrare così Che in un millisecondo Puoi guardare questo specchio E quello Se fai una manovra Stretta insomma Puoi fare Tac Tac Ti guarda di qua E di là Ora voi magari Con il frame rate a 30 fps Non lo notate bene Ma fai Tac Tac Un secondo Vai di destra Sinistra Col tasto magari mi dite È uguale Però Con la testa è più Boh A me viene più O più regolare Insomma Poi tante angolazioni Che Tipo questa Che Senza Il trackier Non puoi farla Tipo questa No scusate Queste si possono fare Questa Zoomare in avanti Così Zoomare indietro Guardarsi In alto Ecco Quindi secondo me Il trackier È un acquisto Super consigliato Compratelo da Amazon Ok È il miglior sito Secondo me Dove potete trovare Questa roba Di elettronica Comunque Qualsiasi cosa Ah qui proprio Siamo nel punto Più brutto della Germania C'è di tutto Come siamo messi a video Dovremmo essere Quasi sui Sì 20 minuti Dai ragazzi Perdonatemi Ma io sono stanco morto Sono le tre passate E E E vorrei anche andare a dormire Per cui Facciamo questo svincoletto Vediamo se c'è un auto Che Si Proprio si capisce Se c'è un auto green In questo posto Si capisce proprio Niente ragazzi Ah no Questo qui non sta indicando Sobre Non penso Indica un'uscita Io vi ringrazio tantissimo Per la visione Da Dene tutto Ciao a tutti